Noi siamo in perfetta sintonia, quindi non è che possiamo risolverla tra di noi perché probabilmente l'avremmo già risolta. Le questioni sono tecniche, indubbiamente è un tema serio che va affrontato seriamente, sapendo quali sono gli impegni che sono stati assunti quando si è consolidata la candidatura. Stiamo cercando di capire come intanto, prima di tutto, mantenere fede agli impegni assunti e di tenerla in Italia. Cortina è ancora un tema, ne stiamo parlando. Un tema solo tecnico, se non ci sono le condizioni non è possibile crearle artificialmente, quindi dobbiamo affidarci ai tecnici e fare in modo che vengano valutate seriamente le difficoltà rispetto alle opportunità.